Dopo il terzo successo consecutivo nella sfida casalinga contro il Real Aianese, la prima squadra a Maranto è adesso chiamata alla difficile prova contro la capolista nel match valido per la settima giornata di ritorno del campionato regionale di Serie C femminile. Reduci dalla vittoria tennistica della scorsa settimana e danni della compagine di Mister Esposito, le Aretini scenderanno in campo contro il Lucca 2003 cercando di mantenere il trend positivo che le vede protagoniste da diverse giornate. Con una collezione di 10 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte con 47 gol siglati contro 17 subiti, l'Arezzo mantiene la quinta posizione con i suoi 38 punti accorciando le distanze con il filotto di teste portandosi a meno uno dalle rivali casentinesi e a meno tre dalla terza classificata Don Bosco Fossone. Detengono invece il titolo di prime della classe le avversari lucchesi che malgrado il pareggio esterno dello scorso weekend sul campo del Casentino si confermano in testa alla gradatoria con 46 lunghezze. Nonostante il rientro di Aterini, Mister Acquisti dovrà rinunciare a Renzoni e Magnani, nuovamente ferma per accertamenti dovuti al recente infortunio. Con grande probabilità il tecnico Amaranto arreterà ancora Baracchi in difesa completando l'assetto con Renzoni, Zeghini e Antonelli tra i pali. In attacco schiererà invece Lucarini e Mattiacci con Paganini a centro campo.